Tutelare le eccellenze enogastronomiche della nostra regione e ambasciatori di Toscana nel mondo, che proprio per la loro unicità finiscono nelle rotte del mercato del falso. A far suonare l'allarme i dati dell'Ispettorato Centrale Repressioni-Frodi, che nel 2021 ha registrato nel settore a livello nazionale, frodi per 9 milioni di euro. Per questo, nella nostra regione, è necessaria una maggiore promozione di un consumo consapevole. Visto che la Toscana è leader per i prodotti agroalimentari e gastronomici, vogliamo fare proprio un'attenzione, lanciare un allarme al consumatore, per cui stia attento a come compra e come si comporta anche quando va al ristorante. Si sta focalizzando sull'agroalimentare. Anche il comitato lotta alla contraffazione della Camera di Commercio di Firenze. Il problema non è che cambi molto tra un prodotto e un traffatto di moda, dove ci sono prodotti come nelle scapi, ci possono essere formadeide o altri prodotti cancerogeni, e se tu prendi un alimento contraffatto con dei prodotti che a volte possono crearti dei problemi.